E adesso vi informiamo su un appuntamento molto importante che cade il prossimo 30 gennaio, data laddove si svolgeranno le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Una tornata che tra l'altro arriva dopo mesi molto difficili per l'Avvocatura partenopea. Partenopea ne parliamo con i nostri ospiti, gli Avvocati Michele Biceglia, Gabriele Esposito e Edoardo di Natale. Dunque Biceglia manca sempre meno alle prossime elezioni che si terranno appunto prossima settimana. Il momento della verità tra l'altro arriva dopo un periodo di grande caos generato dalla notizia del buco di bilancio dell'Ordine. La domanda che ci poniamo è questa, come si è potuti arrivare a tale situazione ma soprattutto come è potuto accadere. un buco di bilancio con una cifra così importante, ragguardevole. Sicuramente questa notizia ha scosso un po' tutto l'ambiente dell'Avvocatura napoletana ed oltretutto è giunta poco tempo prima delle elezioni che si terranno appunto la prossima settimana. Sicuramente c'è stata un'eccessiva leggerezza nella gestione del bilancio e infatti ci saranno delle verifiche nei prossimi mesi. Sicuramente adesso però è il caso, è opportuno dare una risposta concreta all'Avvocatura che chiaramente sta iniziando a perdere la propria fiducia nei confronti dell'organo che poi gestisce l'Avvocatura napoletana che è il Consiglio dell'Ordine appunto. Noi abbiamo costituito questo gruppo di Avvocati indipendenti proprio per dare un segnale di discontinuità con il passato. Siamo un gruppo di Avvocati che di fatto è totalmente slegato da quelli che possono essere degli accordi preelettorali, dei compromessi e che una volta insomma se avremo l'opportunità di essere eletti non dovranno dar conto a nessuno se non ai propri elettori e alla classe forense. Naturalmente per affinché ci avvenga è necessario che avvenga innanzitutto un cambio di lotta perché la notizia del buco di bilancio ha sicuramente sconvolto tutti gli iscritti quindi è necessario recuperare la fiducia con gli iscritti all'Ordine ma come si fa a ricostruire tale rapporto di fiducia dopo la notizia che tra l'altro ha delle radici piuttosto profonde, non recenti? Le radici sono sicuramente lontane e parliamo almeno dalla stima che è stata ad oggi effettuata parliamo di un fenomeno che si è iniziato a radicare almeno 15 anni fa quindi le radici sicuramente non sono vicine è fondamentale instaurare una nuova rotta ma completamente diversa rispetto a quella che si è avuta sino ad oggi questa rotta chi la può cambiare? Noi invochiamo la nostra preferenza ai colleghi elettori per dare proprio questa inversione totale e lo possono fare i colleghi dando fiducia e nel mio caso confermandola perché della nostra piccola ma ben solida aggregazione io sono l'unico consigliere uscente attualmente ricopro la carica di vicepresidente e dare fiducia a chi concretamente ed effettivamente non ha vincoli sia all'interno della nostra, della comunità forense e sia all'esterno della comunità degli avvocati e che non subisce e che non subirà sicuramente influenze di alcun tipo il mandato che noi chiediamo è un mandato diretto ad assecondare le esigenze esclusivamente degli avvocati e quindi noi chiediamo agli avvocati di darci fiducia per evitare che i personalismi che hanno poi generato non solo il famoso buco di bilancio di cui tristemente si parla da qualche tempo a questa parte ma una serie di logiche sistemiche una serie di logiche politiche che hanno poi contribuito al sfacelo e a un decadimento anche culturale dell'avvocatura in questo ultimo esatto perché sembra a questo punto essere giustificato non è il fatto che ci sia per l'appunto una sfiducia da parte degli iscritti all'ordine nei riguardi proprio del consiglio che area si respira in tribunale, in tribunale di Napoli ma come deve avvenire proprio effettivamente questa svolta? In tribunale si respira un'area di sconforto i colleghi sono sconfortati, un po' delusi, un po' preoccupati nella situazione che si è venuta a creare le soluzioni possono essere diverse a mio modo di vedere una delle soluzioni possibili è la riorganizzazione della macchina amministrativa potenziando la macchina amministrativa cercando di non incorrere gli errori in cui si è in corso nel passato ma in particolare per fare questo e disattenendo quelle che sono state le soluzioni paventate io ritengo che non bisogna gravare gli iscritti di ulteriori quote per il disanamento del buco di bilancio non sarebbe giusto secondo lei? No, non sarebbe assolutamente giusto per dirla con Quintino Sella bisogna ottimizzare la spesa e fare economia fino all'osso questo sicuramente Tra l'altro commentiamo anche quest'altro aspetto perché al di là del buco del bilancio l'ordine in realtà ha già tante criticità in sé per sé perché i dati ci dicono che 7 avvocati, 7 professionisti sono in difficoltà, 7 su 10 e sicuramente è un numero molto alto quindi come invertire anche quest'altro trend e recuperare soprattutto la classe dei giovani perché presumo che in questo momento bisogna recuperare il suo soprattutto il target giovanile per avvicinare sempre di più i giovani al mondo dell'avvocatura Certo, insomma questa criticità che lei ha appena evidenziato si è negli ultimi anni manifestata soprattutto con la numerosa cancellazione di tanti avvocati dall'albo degli avvocati e in particolare molti colleghi hanno preferito insomma il porto sicuro della pubblica amministrazione molti oggi ce li troviamo dall'altro lato della scrivania come cancellieri e da un lato insomma è una cosa positiva perché capiscono quali sono le problematiche cosa che fino ad oggi non avveniva sicuramente è nel nostro progetto dare una risposta concreta chiaramente con un buco in bilancio di un milione e otto chiaramente la priorità sarà quella di risanare il bilancio però una volta che riusciremo mi auguro se avremo la possibilità di farlo a superare questa problematica è nel nostro programma quello di istituire una fondazione che possa aiutare appunto gli avvocati meno abbienti quelli che hanno più difficoltà oggi e sono purtroppo tanti perché si sono susseguite una serie di norme che hanno via via svilito sempre più il ruolo dell'avvocato anche e soprattutto da un punto di vista economico primo fra tutti faccio un esempio è proprio l'abolizione dei minimi tariffari che è un elemento che purtroppo ha tolto quella che è la dignità alla classe forense tra l'altro c'è anche il problema di alta criticità quello della riforma della giustizia che attualmente tuttora ferma ora di là del rinnovamento della giustizia dove deve passare ecco proprio la svolta la riforma della giustizia si è diciamo appena avviata il problema vero è che anche a di là della burocrazia il problema vero è che ha reso ancora più burocratizzata una professione che dovrebbe essere libera anche nelle forme il problema della recentissima riforma cartabia che ora stiamo iniziando diciamo ad affrontare ma anche a studiare perché non nascondo che confrontandoci anche con il personale della magistratura con i magistrati e con i cancellieri tutti e non solo gli avvocati trovano ampie difficoltà il problema è che la riforma cartabia risponde a delle esigenze economiche ma a livello europeo non risponde però a delle precise esigenze di giustizia che invece è quello che dovrebbe risultare principalmente in un'aula di tribunale noi non dobbiamo rispondere semplicemente a delle statistiche dobbiamo innanzitutto affermare la giustizia e voglio aggiungere che se dobbiamo rispondere a delle logiche economiche non lo si può fare solo riformando uno o più codici che non faranno altro che invece nel prossimo futuro che aggravare i carichi dei tribunali ma la vera risposta si dà con l'aumento delle risorse all'interno dei tribunali delle risorse umane innanzitutto e pensi in questo bellissimo studio se la conduttrice giornalista dovesse essere contemporaneamente anche cameraman e anche regista ovviamente non riuscirebbe efficacemente sarebbe assolutamente impossibile è come giocare a dama sottraendo pedine e mamma l'ottimo lavoro risulta tale proprio perché ci sono loro al di là delle camere, i tecnici e la regia che ringrazio per darmi l'occasione per ringraziarli puntualmente intanto ricordiamo appunto queste prossime lezioni voi sarete in campo con la lista Avvocati Indipendenti che per appunto farà capo all'interno dell'Ordine di Napoli e vogliamo anche se è possibile ricordare anche i nomi dei colleghi Maurizio Dago che è un collega molto simato gius lavorista Antonio Verde che è un collega penalista e Gennaro De Chiara collega civile nella lista Avvocati Indipendenti Comichele Biscele, Gabriele Esposito, Edoardo Di Natale oltre a quelli già dati le menzionate piccolo break, restate con noi grazie 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 Grazie.